Terribile notizia sulla nonna di Giulia Cecchettin, lei purtroppo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Pesanti attacchi sui social alla nonna di Giulia Cecchettin, che ha suscitato polemiche decidendo di presentare il suo libro durante un evento già programmato da tempo. La presentazione e un'intervista rilasciata nello stesso contesto, sebbene si sforzasse di apparire sorridente davanti alle telecamere, hanno generato odio sui social. Il tutto è accaduto nel corso della giornata contro la violenza sulle donne, un dettaglio che ha alimentato ulteriormente le critiche. La nonna della giovane Giulia, tragicamente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre, si trova al centro di pesantissime accuse. Carla Gatto è stata duramente contestata per aver proceduto con la presentazione del suo libro in precedenza pianificato, mentre l'autopsia della nipote barbaramente uccisa era ancora in corso. La decisione di apparire pubblicamente in un momento così delicato ha scatenato un'ondata di indignazione sui social. Il tono dei messaggi che hanno inondato le piattaforme social è stato accorato e critico nei confronti della 75enne. Si contesta la sua scelta di presentare il libro durante il periodo di lutto della famiglia e addirittura prima dei funerali di Giulia, previsti per il 5 dicembre a Padova. In realtà, l'appuntamento legato al libro della nonna era già stato programmato in precedenza, ma questo dettaglio non ha placato la furia degli utenti online. La domanda che ora sorge spontanea è come è possibile dedicarsi alla presentazione di un libro mentre la famiglia sta affrontando la tragica perdita della giovane Giulia? Una scelta controversa che ha diviso l'opinione pubblica. E tu cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Scriviti al nostro canale